Presidente Scarsella, possiamo fare un consuntivo di questa meravigliosa edizione? Un consuntivo diciamo che prima di tutto ci sono state delle sorprese, piacevolissime sorprese e questo ci rende ancora di più allegri in questa giornata e partecipi di questo campionato perché a vedere i nostri massimi esponenti, se possiamo chiamarli così, battuti in finale ma battuti non perché loro hanno tirato male, perché l'altro ha tirato meglio ancora poi ci sono state delle conferme come la Mino, ci sono state delle sorprese come la ragazza calabrese che è arrivata a seconda Chiudiamo soltanto con una breve sull'organizzazione di questo trentonesimo Posso chiudere con una parola sola? Perfetta! Tutto bello, organizzato bene, con una buona visibilità, un grande gruppo di volontari che non hanno fatto mancare niente un'ospitalità straordinaria e quindi io direi solo un semplicemente grazie, ma grazie veramente che arriva dal cuore Organizzazione perfetta, gara perfetta, 5 record del mondo, la mia squadra ha preso pure la medaglia d'oro che si può chiedere di più Adesso parla il commissario tecnico I prossimi impegni Olbia, perciò iniziamo i raduni con la nazionale a Padova A marzo, i primi di marzo già avremo il primo raduno, fine marzo il secondo per poi a maggio partire per Olbia Noi abbiamo come Sicilia, abbiamo preso ieri nelle classifiche di classe tre ori e un argento Oggi abbiamo aggiunto anche un bronzo, quindi tre ori, un argento e un bronzo e quindi come aspetto sportivo nostro è una grandissima soddisfazione Palermo è capitale di tutto, capitale alla cultura, capitale allo sport sede di manifesta, guarda veramente, oggi sono veramente più che soddisfatto e più che contento